L'azione vi spinge a cercare nuove strade e nuove soluzioni. Andiamo al segno del toro, certamente una luna importante, interessante, quella che transita prima nel segno dei gemelli, poi nel segno del cancro. Voi avete invece questo sostegno straordinario dei pianeti nel segno dei pesci. Quindi siete delle persone molto attive in questo periodo, sotto tutti i punti di vista, sia sul lavoro, sia in ambito sentimentale. Avete una marcia in più, vi fate anche rispettare, quindi avete la tendenza a dire le cose come stanno e soprattutto a mettere sul tavolo quelle che sono le vostre idee, le vostre richieste, le cose che un pochettino pretendete. In questo momento avete anche delle persone disposte ad aiutarvi, a sostenervi in una vostra idea, in un vostro progetto. Quindi dovete darvi da fare sotto questo punto di vista. Molto bene anche l'amore, i sentimenti dopo un periodo, diciamo così, difficile, di crisi, adesso state recuperando giorno dopo giorno. Anche a valore.